I dati lo stanno confermando ogni giorno, i contagi sono in crescita e anche la provincia di Pescara ci mette del suo. Il Covid con la variante Delta ancora dominante e la Omicron in salita è tutt'altro che vinto ed è tornato a colpire anche qui a Penne, città che nella prima fase della pandemia fu già duramente colpita con tanti positivi e contagi anche eccellenti come l'allora sindaco e medico Mario Semproni. Ora però la storia può essere riscritta proprio grazie a quella dolorosa esperienza e soprattutto al vaccino. Attualmente a Penne sono una quarantina i positivi al Covid e una ventina le persone in quarantena obbligatoria per aver avuto contatto diretto con un positivo. Una situazione critica che ha spinto il sindaco Gilberto Petrucci a chiudere le scuole e avviare la didattica a distanza. C'è un dato che mi preoccupa tantissimo, la diffusione del virus tra i giovani e in effetti come primo atto ho sospeso l'attività in presenza nelle scuole e chiuso i centri sportivi presenti nella mia città proprio per dare una prima risposta al contrasto quindi del virus sul territorio. Non basta, continuiamo con i vaccini, abbiamo un hub vaccinale che copre l'intero territorio dell'area vestina ma questo non è abbastanza, dobbiamo mantenere tutti i presidi legati appunto all'aspetto per evitare che la diffusione del virus possa continuare soprattutto in questo periodo di festa, quindi c'è ancora molto da fare. Nei prossimi giorni probabilmente azionerò altri sistemi per bloccare il virus quindi sul territorio. Noi attendiamo le indicazioni della cabina di regia, chiaramente uno dei punti fondamentali sarà quello appunto di evitare gli assembramenti e non è escluso appunto anche con, abbiamo avuto già dei contatti con le istituzioni, il territorio come la prefettura, come appunto indossare la mascherina nei luoghi più frequentati, questo proprio per evitare la circolazione del virus. Ma non basta, occorre una cultura più forte, maggiore attenzione e un momento difficile dove non dobbiamo perdere tempo e dobbiamo fare le cose fatte bene. Cosa direbbe ai suoi cittadini se potesse parlare uno ad uno? In questo periodo di festa è un momento bello ma cerchiamo di non rovinare questa festa utilizzando maggiore attenzione, precauzione, facciamo i tamponi anche in occasione delle tavolate natalizie perché un piccolo errore può davvero rovinare un'intera comunità.